Anche quest'anno ritorna la settimana africana regionale e la vostra onlus è in prima linea per questo evento così importante. Sì, anche quest'anno continuiamo con la diciannovesima edizione della settimana africana che verrà aperta sabato 8 ottobre alle 15.30 con la consegna del premio l'Africa nel cuore a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, un comune virtuoso per quanto riguarda l'accoglienza perché è un comune che conta 2000 abitanti di cui più di 200 sono stranieri. Proseguiremo poi al Cinema Politeama alle ore 18 con la proiezione del documentario film Fuoco a Mare. Tutta la settimana, poi appunto dal 9 fino al 15, ci saranno appuntamenti in vari punti della città. Il 9 ottobre saremo con un torneo di calcio a Villa Marina, il lunedì al Circolo Arci con la presentazione del libro di Leonardo Parmisano, Ghetto Italia e poi proseguiremo martedì con l'ospite importante per noi, Stefano Liberti, un giornalista che presenterà il suo nuovo libro. Tanti appuntamenti poi per i bambini, alla Mediateca Montanari delle letture ad alta voce, un laboratorio di cucina sul Marocco per chi vuole conoscere sia la cultura marocchina che alcuni dei suoi piatti. Poi concluderemo sabato 15 ottobre nella zona del Pincio come ogni anno con l'evento che chiamiamo la Notte Nera. Inizieremo dalle 16.30, ci saranno anche qui dei laboratori per bambini, ci saranno la premiazione del torneo di calcio e varie concerti e musica con il coro gospel, i percussionisti di Whatsafro, il gruppo Soul composto da richiedenti asilo e il gruppo che attendiamo di più, che è un gruppo di Ancona, si chiamano Riciclato Circo Musicale e si esibiranno appunto al Pincio sabato 15 ottobre. Ci sarà anche la cucina, sia africana che tradizionale e da bere, estende le associazioni. Quindi vi aspettiamo tutti a tutti gli appuntamenti che potrete vedere nel sito internet dell'associazione